e siamo ritornati in studio puntualmente per la seconda parte del nostro appuntamento della sera sempre ad angoli e quindi anche il nostro indirizzo di posta per restare sempre in contatto con la nostra redazione basta inviare una mail ad angoli chiocciola espansionetv.it l'ospite che saluto e ringrazio come sempre anche con grande affetto e quindi ritroviamo il nostro professor giuseppe perone ciao giuseppe ben ritornato grazie grazie per l'invito lo ricordiamo primario di oculistica presso clinica villa prica quindi ancora una volta parleremo dei nostri occhi che sono preziosissimi e dobbiamo assolutamente un mondo affascinante e come no è un mondo affascinante di cosa ci parli questa sera oggi parleremo di uno dei primi argomenti di come mi sono interessato fin da studente miopia elevata infatti la mia tesi di laurea parla chiaro correzione chirurgica della miopia elevata relatore professor trimarchi specializzando professor dottor perone e allora facciamo una domanda su questa su questa cosa perché ti sei interessato proprio a quell'argomento ha deciso di trattarlo perché il mio maestro era un fine conoscitore della materia ed è stato tra i primi in italia a impiantare cristallini vale a dire delle lenti intraoculari per correggere la miopia elevata l'università di pavia è stata tra le prime in italia a perseguire questa questa strategia chirurgica per togliere dall'imbarazzo pazienti con grossi problemi di vista quali quali sono i pazienti con miopia elevata dove per miopia elevata intendiamo pazienti con miopia di meno 20 meno 30 abbiamo avuto pazienti con miopia di 40 diottrie vale a dire una vita impossibile senza qualità della vita davvero complicata complicata e nel corso degli anni fin dal 1953 quando un oculista molto molto noto professor strambelli mise appunto questa tecnica di impiantare una lente all'interno dell'occhio per correggere la miopia elevata miopia elevata che si verifica ogni qual volta il diottro oculare ha un potere refrattivo ridotto rispetto alla lunghezza dell'occhio l'occhio più lungo del normale e la focalizzazione dell'immagine avviene anteriormente alla retina e quindi non si riesce a focalizzare bene l'oggetto nel corso degli anni ci sono stati vari tentativi con strategie chirurgiche diverse per correggere la miopia elevata sono state messe appunto un numero notevolissime di lenti la scuola americana la scuola russa la scuola italiana tantissimi professionisti tantissimi studiosi sono dedicati all'argomento negli ultimi anni possiamo dire che la correzione chirurgica della miopia elevata avviene essenzialmente attraverso due strategie una strategia dedicata a pazienti che hanno ormai perso il meccanismo dell'accomodazione vale a dire quel sistema di messa a fuoco che in vigore fino ai 40 45 anni nel nostro occhio dopodiché si perde perché si perde il tono accomodativo si perde la capacità da parte di un muscolo del nostro occhio che il muscolo ciliare di focalizzare l'immagine in questo caso si esegue un intervento che è simile all'intervento di cataratta quindi si asporta il cristallino naturale del nostro paziente e lo sostituisce con un cristallino artificiale appositamente calcolato nel suo potere mediante delle tecnologie notevoli che servono a calcolare in modo ottimale il potere del cristallino quindi in questi casi l'età del paziente è importante come elemento l'età del paziente è discriminante tra scegliere una tecnica di chirurgia della simile alla chirurgia della cataratta si viene nominato impianto di holly in camera posteriore nel sacco capsulare il termine esatto e questa tecnica è una tecnica che si utilizza per i pazienti che hanno superato i 45 50 anni esiste poi un'altra tecnica che è quella che vedete in questa animazione che viene utilizzata nei pazienti più giovani e consiste nell'impianto di una lente tra l'iride e il cristallino quindi non viene inserito il cristallino previa asportazione del cristallino naturale ma viene aggiunto una lente artificiale nel nostro occhio questa è una lente in collamero porcino molto sottile è una lente che è in grado di regalare delle soddisfazioni meravigliose al paziente e al chirurgo l'intervento viene eseguito in anestesia topica vale a dire solo con delle gocce di collirio ecco qui vedete proprio la lente è una lente con delle peculiarità uniche direi infatti la lente va costruita appositamente per quell'occhio il paziente dopo un'accurata visita ripeto stiamo parlando di pazienti giovani in questo caso pazienti quanto giovani ma dopo i 20 22 anni può essere già eseguito quando la miopia è stabile e l'intervento dicevo un intervento non alla portata di tutti i chirurghi indubbiamente è un intervento che richiede una notevole capacità sia chirurgica ma soprattutto una capacità importante nella selezione del caso perché bisogna valutare tutta una serie di parametri del nostro occhio da poi trasformare in realizzazione di una lente idonea a quell'occhio quali sono per esempio se è possibile citarne alcuni parametri interessanti iniziamo a valutare lo spazio che esiste tra il cristallino e la cornea che non deve essere inferiore ai 3 mm iniziamo a valutare il diametro del nostro occhio che viene chiamato limbus limbus che non deve essere 11 mm 11 mm e 5 per ordinare una determinata lenta perché se di dimensione maggiore bisogna ordinare una lente con un parametro diverso iniziamo a valutare la microscopia endoteliale vale a dire il numero delle cellule endoteliali della nostra cornea i parametri sono notevoli quindi bisogna fare una selezione attenta del caso dopodiché il paziente entra in sala operatoria con delle semplicissime gocce di collirio viene eseguito in prima giornata un occhio ecco vedete la tecnica di caricamento della lente all'interno del cartridge vale a dire all'interno del lineatore questa è una tecnica mia personale che mi ha permesso di iniettare questa lente attraverso un forellino di un millimetro e due mentre in origine questa lente veniva inserita all'interno dell'occhio mediante un'apertura di 2.7 mm grazie a questa elaborazione messa a punto da me possiamo impiantare la lente attraverso un forellino molto ridotto eccolo qua questo è l'impianto questo è un impianto eseguito in diretta al congresso AICER di Napoli un po di anni fa e operare in diretta chiaramente è sempre un'emozione un tantino diversa questo è l'intervento in tempo reale l'intervento in questa fase è già praticamente terminato si tratta di posizionare in modo ottimale la lente eccola qui benissimo si ribadisce che l'abilità ovviamente del chirurgo del professionista è determinante in questi casi qui ci vuole abilità e molta esperienza perché torno a ripetere la selezione del caso è fondamentale non si può pensare di avvicinarsi a questa chirurgia senza conoscere bene la materia l'intervento diventa ancora più semplice quando operiamo pazienti con una miopia importante che hanno più di 45 anni allora lì eseguiamo un intervento che possiamo vedere nel video ecco questo è un intervento fatto in un altro congresso questo è il congresso di Ancona dove ho operato in diretta ho eseguito un intervento di correzione chirurgica della miopia elevata mediante impianto nel sacco con l'utilizzo di una tecnologia che mi vanto di essere stato tra i primi in Italia a portare vale a dire il laser a femtosecondi vedete qui non esiste il bisturi praticamente viene eseguito tutto con questa tecnologia che in grado di eseguire delle resezioni dei tagli con una precisione di un micron quindi veramente notevole fantascientifica dopodiché si impianta la lente nel al posto del cristallino naturale il tutto avviene nel giro di due tre minuti anche qui senza usili di anestesie particolari solo dei colliri questo è un paziente che in seconda giornata già vede vede tranquillamente bene questa chiaramente è una chirurgia che amo particolarmente perché si sposa con una tecnologia di altissimo livello e queste sfide sono il mio pane quotidiano ho sempre amato questa tecnologia dei laser sin da ragazzo dall'inizio questo tipo di intervento diventa definitivamente risolutivo per la miopia nel modo più assoluto quindi lo si può affrontare nelle modalità che suggerivi dopo un'indagine precisa e diventa una soluzione una soluzione che cambia definitivamente la qualità della vita se proviamo a pensare un miope di meno due meno due no meno cinque no ma quando pensiamo un paziente miope di meno dieci meno quattordici meno venti è un paziente che quando si sveglia nel cuore della notte perché sente il telefono sente qualcuno che suona la porta prima deve cercare gli occhiali altrimenti non si muove dopodiché con gli occhiali può andare a rispondere al telefono e aprire la porta quindi è uno stile di vita che cambia completamente soprattutto per quanto riguarda aspetti come la serenità del paziente la tranquillità la sicurezza pensa che cosa vuol dire non poter andare in piscina perché non poter fare un bagno al mare di notte perché con una miopia di meno dieci come fai a fare un bagno di notte? siamo davvero in battuta conclusiva ma siccome tu sei di grande cuore quindi mi permetto di chiedertelo c'è un episodio di un paziente in questo caso specifico che ricordi particolarmente e per il quale hai visto davvero un grande sollievo successivamente l'intervento? mia moglie l'ho operata nel 91 e ho visto la differenza tra la gravidanza e l'allattamento di mio figlio Alessio che quando piangeva di notte mia moglie doveva prima cercare gli occhiali e poi andare in cameretta a dargli da mangiare nel 91 ho operato mia moglie nel 92 è nata mia figlia Sonia che è stata viziata sin dall'inizio perché bastava che aprisse solo bocca e mia moglie era subito lì perché avendo fatto l'intervento correva subito ti cambia radicalmente la vita potrei riempirti un libro di episodi di pazienti che ti scrivono dal mare perché finalmente possono fare il bagno vanno sott'acqua di pazienti che ti dicono lei è il mio secondo papà perché mi ha dato la vista c'è un libro da riempire bene ci rivedremo? senz'altro benissimo parleremo di un argomento altrettanto interessante che purtroppo ancora oggi fa tanti pazienti ciechi che è il glaucoma benissimo allora è un arrivederci saluto e ringrazio il professor Giuseppe Perone grazie a voi buona serata grazie anche a voi per essere stati con me rimanete lì tra poco come sempre la linea ai colleghi dell'informazione grazie a voi grazie a voi